A tutti succede di avere una maglia che attrae in maniera fenomenale le macchie. Si indossa e si macchia subito. Si macchia quando mangiamo, si macchia quando cuciniamo, più ci stiamo attenti e più si macchia. Ci sono macchie che la lavatrice non riesce a portare via in nessun modo. L'unico modo per eliminarle definitivamente è agire direttamente su di esse con uno smacchiatore. Gli smacchiatori in commercio tuttavia possono essere anche molto aggressivi e decolorare, scolorire la maglia. Fortunatamente è possibile smacchiare qualsiasi tipo di macchia di olio utilizzando del semplice sapone neutro per le mani. Per eliminare le macchie d'olio basta mettere un po' di sapone liquido su ogni macchia e lasciarlo agire, lasciarlo assorbire. Lasciare poi che sia essiccato completamente e per questo ci vogliono circa 2-3 ore. Dopo che il sapone sarà essiccato si va a sciacquare la maglia con dell'acqua calda, si mette ad asciugare al sole. Qualora dovesse persistere qualche macchia si ripete la procedura. Potremmo finalmente dire addio alle macchie antiestetiche che si presentano in qua e là sulle magliette senza spendere per prodotti specifici, lavorando direttamente con le mani perché utilizziamo un sapone neutro e ottenendo un risultato eccellente. Buoni rimedi alternativi a tutti. Arrivederci. 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 Arrivederci.